Ma che cazzo sta a dire? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova live di doppiaggio Con il Team Orion al completo, finalmente Ciao ragazzi Ci siamo Gian Andrea E Chiara Che noia che siete Eh sì, perché adesso ho preso io il tuo posto perché non mi faccio vedere mai E la gente mi ha cominciato a dire Ah, ma tu adesso stai facendo il gioco di Chiara Sì, è vero, è vero, è vero Spera così di acquistare la mia popolarità Eh lo so Ingenuo Tu devi vendere Devi farti le tette Tu devi vendere Ma ce le ho Allora devi push a parli, tirarle fuori un po' di più Non lo so, Andrea fai qualcosa Non so se si possono mostrare Tu devi vendere il pesce Devi vendere il pesce Ma non lascia perdere No, 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 ci fanno, ci fanno Bomba ragazzi Stacca, stacca Non se lo ricordo ma io e Andrea abbiamo fondato il canale Orion Che amore Io ti disgusto Io ti disprezzo Dammi qualcosa di Di contundente Ehi, quella è mia Ma doppiato in un armadio? Sì, esatto Angel love Dovremmo spostare un po' la camera Per inquadrarci meglio no Posso fare così No, 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 non toccare Non toccare Non sto toccando Non toccare Non ti sto toccando Non sto toccando Posso fare così Non ti sto toccando C'è Rutto libero? Sì Eh, ti è venuta sospesissima Sì, mangiamo qualcosa Perché su quella bocca è giusto scusatemi Eh, un attimo Dobbiamo aspettare che la polizia di Gotham faccia il suo lavoro Oh no, sono in ritardo Mi sa che la corri un po' Eh, no, io la vedo molto Cioè, io mi la vedo molto addirittura Sì, mangiamo qualcosa Puoi distenderti un pelo, eh Wow, bene Wow, bene Sono già, pif Grazie per il subscribe Benvenuto a me in mezzo Lo squadrone della morte Mi è arrivato dritto nell'orecchio Eh, lo so Preparati a perdere un No, 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 non era alto, eh Madò, c'è ancora più luce adesso Saremo ancora più smarmellati Sì, io sono smarmellatissimo Io e Magna sono bellissimi Io non ho il naso Guarda la fronte, guarda la fronte Posso riflettere Che ti succede? C'hai il pepe al culo Probabile Più semplice, più easy Sei tre amici Tipo Andrè, poi ti va se ti accompagni in stazione Sì, vabbè Eh, ci voleva tanto Così, così Cos'è quel bianco intorno a me Ah no, è cos'è Cos'è Quel bianco intorno a me Cos'è No, cos'è, cos'è Di che colore è? Ah, è esatto Cos'è, cos'è Ma che colore è Cos'è Quel bianco intorno a me Cos'è Io non l'ho visto mai Starò sognando in guardia Jack Ma cos'è Cos'è Oddio, che c'è? Quaggiù si dorme già Perché di mostri non ce n'è? Non ho né streghe, né fantasmi Niente notti di paure I bimbi dormono sicuri nei lettini Cos'è? È qui! È qui! Il posto dove io vorrei Restare per magia Vorrei scaldarmi il cuore e vivere E ridere Adesso voglio vivere Lo voglio, sì, lo voglio, sì, lo voglio E lo farò Io lo saprò, io lo saprò Se questo posto è vero o no Che cos'è? Tum tum Questa è benzina Va bene E allora abbiamo finito Il nostro dovere è compiuto Salviamo il progetto prima che... Ciao ragazzi, sono Gian del canale Orion Grazie per aver visto questo video Vogliamo ringraziare in particolar modo Federico Fritz Schippa Che è il disegnatore di questo video Che è un estratto da una delle nostre live di Twitch Quindi se volete andatelo a trovare sul suo canale Lasciategli un... Un gonzilio Andategli a scrivere gonzilio sotto all'ultimo video Così gli facciamo capire quanto abbiamo apprezzato il suo lavoro E quanto apprezziamo il suo affetto nel crearci questi mini video Che fanno arrivare a voi la nostra demenza totale e incredibile Grazie a tutti e ci vediamo molto presto con un nuovo video, ok? Bye bye!